Ciao amici di Fantabats, benvenuti in questo nuovo video. Parliamo dell'Empoli, come vedete dal titolo e dalla copertina. Analisi della rosa dell'Empoli, quindi vedremo giocatori consigliati e sconsigliati, diciamo, di questa squadra, che è ancora un cantiere aperto, anche se si sta un po' sistemando. Non mi perdo in chiacchiere, vado subito sulla nostra immagine della guida di Fantabats, dove potete tranquillamente giocare le leghe, ve lo dico sempre, ma insomma, come ricordo. In Portabatskets ho un po' di dubbi, sinceramente, nel senso che ha fatto un bel finale di campionato con l'Ascoli l'anno scorso, giocato al posto di Viviano, e ha finito bene, l'Empoli ci ha voluto puntare, comunque scuola Milan è ancora di proprietà del Milan, però non mi convince al 100%, diciamo, nel senso che sulle uscite non è sempre perfetto. Tra i pali meglio è molto reattivo, sicuramente è molto reattivo, però non mi convince appunto nell'attacco della palla, quando esce o nelle uscite alte, anche le prese spesso non sono pazzesche, è veramente un portiere molto istintivo, che ha una bella tecnica di tuffo, però non mi fa impazzire, e l'Empoli comunque è una squadra che sarà invischiata, immagino nella lotta per la retrocessione, quindi non è proprio il massimo, è vero che forse c'è anche qualcuno messo peggio, però insomma è tra le ultime opzioni, secondo me, non ci punterai tantissimo, il secondo è Brancolini, il secondo era Perisan, ma poi si è fatto male e starà fuori per un po', e quindi dovrebbe essere Brancolini che hanno preso da Lecce, difesa Ismaili, Valuchiewicz, Viti, in realtà in Coppa Italia avete visto, non avete visto nessuno di, no avete visto Viti, gli altri, tra l'altro si è fatto male anche Goglicizze, il Giorgiano, Guarino, non so perché non abbia giocato, ha giocato Marianucci, un giovane, della primavera, e ha giocato Kakace come terzino, come braccetto di sinistra, però insomma questa è la formazione che dovrebbe essere durante l'anno, quindi Ismaili, Valuchiewicz, Viti, Viti mi convince a metà, nel senso che è cresciuto all'Empoli, ed è un giocatore molto aggressivo, l'abbiamo parlato anche tante altre volte, forse troppo aggressivo, tendenzialmente l'Empoli è una squadra, anche per D'Aversa, non è una squadra che attacca tantissimo, che gestisce il pallone, ma più che altro che vuole verticalizzare, insomma l'abbiamo parlato anche nell'analisi tattica dell'Empoli qualche tempo fa, quindi Viti non mi fa impazzire da quel punto di vista, io lo lascerei ai miei compagni di Asta, e andrei un po' più su Valuchiewicz che è un giocatore non eccezionale, ma insomma che fa il suo, abbastanza costante, sì qualche volta pecca anche lui, però insomma se devo scegliere uno tra questi, prendereva Valuchiewicz, se volete proprio una sorpresa che magari pensate che possa giocare, ha avuto molto spazio in questa coppa, in questo precampionato, con Gizze, il Giorgiano, e lui potrebbe essere interessante. E comunque non da trascurare l'ipotesi di Kakáce come braccetto di sinistra, tra l'altro ha fatto anche un assist, quindi è un po' sottovalutato effettivamente Kakáce dal punto di vista tecnico, difensivamente non è il massimo secondo me, ma offensivamente ha un bel piede in realtà, forse anche migliore rispetto a Pezzella, però appunto, fase difensiva Pezzella è sicuramente superiore, però ha messo in balottaggio loro due, anche loro sono ovviamente difensori. Giassi è lì stato attaccante perché in realtà non pensavamo che giocasse così, è il brutto di fare il mercato a luglio, non escludo neanche che Giassi qualche volta possa giocare avanti, perché poi D'Aversa si è trovato col 3-4-2-1, ma non è detto che andrà avanti sempre così, se dovesse tornare al 4-3 qualche volta già si potrebbe giocare avanti, però questo Giassi a destra alla fine ha mostrato tanto sacrificio, e quindi da prendere solamente perché gioca, non tanto per la possibilità di gol, assist o qualcosa del genere. E questo libera però Fazzini, qualcuno dice che potrebbe essere il suo anno, a me comunque in generale è sempre piaciuto, da quando ha esordito, perché io ho visto sempre fare tante cose con tranquillità, Fazzini sicuramente può essere un nome da Empoli, un nome buono per l'Empoli, perché comunque appunto giocando anche un po' più vicino alla porta, può segnare un po' di più, ecco, non vi fate sempre influenzare dalla doppietta di Coppa Italia, perché giocava contro una squadra non costruita al meglio per il momento, insomma un po' cantiere aperto, in realtà è cantiere aperto anche l'Empoli come dicevamo prima, però in generale Fazzini mi aspetto che possa fare bene, magari non farà, insomma non andrà a questi ritmi di gol naturalmente, però può fare bene, lo vedo maggiormente fiducioso, non lo strapagate naturalmente, però insomma può essere una bella sorpresa. Grassi un po' meno, perché ha sempre qualche piccolo infortunio, già più male che appena tornato da Lecce, perché con Nicola l'ho visto, lui era un giocatore prettamente offensivo, Nicola lo ha fatto diventare un giocatore di intensità, di aggressività, forte anche, migliorato insomma, anche difensivamente sulle linee di passaggio, si sa muovere molto meglio rispetto al Malè prima, che era un po' anarchico dal punto di vista tattico, e quindi è migliorato tanto, vuol dire che il Malè lo prendiamo dal 5%? No, assolutamente no, però lo prendete, lo prendete, penso, spero, a poco, quindi se lo prendete a poco ci sta come titolare, molto più di Grassi, e vi dico la verità, molto più di Zurkowski, sì ci saranno delle volte in cui Zurkowski segnerà, tra l'altro è iniziato anche infortunato, ma questo comunque riguarda solamente le prime giornate, ma in generale io Zurkowski lo lascerei ai miei avversari, poi certo, quando segnerà, magari segnerà contro di voi, e così chiarete tanto, però per 2, 3, 4 gol, lo stesso discorso che mi facevo sul Torino con Vlasic, sì, sono giocatori che segnano ogni tanto, e che se, certo, se ve lo danno a uno, è un conto, ma siccome Vlasic, Zurkowski, non li pagherete uno, ma li pagherete un po' di più, a quel punto vale la pena spendere tanto, occupare uno slot, con tanti crediti che comunque buttate via, per quelle 3-4 volte in cui segna, secondo me no, però, insomma, questa è l'opinione, l'idea che mi fanno, naturalmente fatemi sapere se non siete d'accordo, ovviamente, questa è un po' la mia idea, e poi c'è dove ci sono As e Anderson, come ha detto appunto Zurkowski, ma non mi fanno impazzire, neanche As e Anderson, davanti Colombo anche lui ha segnato in Coppa Italia, glielo auguro di fare una bella stagione, però non lo so, non mi sembra un attaccante che possa segnare chissà quante reti, è vero che in questo momento, diciamo, c'è Caputo, che escluderei, che eviterei, quindi è l'unico centro avanti, non so se l'Empoli poi vorrà prendere qualcun altro in avanti, forse dipenderà dalle prime giornate di campionato, non mi fa impazzire Colombo, anche qui, se ve lo lasciano a uno, diventa il vostro stesso slot, magari sì, se ve lo dovete pagare 10, 12, 15, probabilmente dipende anche da quanti crediti giocate, se 250, 500, 1000, però insomma se lo dovete pagare tanto, un 5%, un 6%, un 4% anche, secondo me non è proprio il massimo, perché non mi aspetto che faccia chissà quante reti, potrebbe farne alla fine 4, 5, 6, perché volendo potrebbe anche calciare qualche rigore, un po' meglio, cioè Esposito mi piace sicuramente di più, però non è il massimo della continuità, lui però non credo, cioè se Colombo magari è facile che lo potrete pagare tanto, perché poi si arriva ad un certo punto dell'asta, che bancano gli attaccanti, e giustamente uno si prende, uno che è titolare, c'entra avanti, e magari non si prende Esposito, che comunque è un 10 se vogliamo, è comunque un trequartista, un esterno, secondo me Esposito in teoria potrebbe adattarsi molto bene al modulo di traversa, al modo di giocare di traversa, quindi con tante verticalizzazioni, palle lunghe, lui comunque ha un controllo di palla eccellente, un buon dribbling, rientra bene, calcia molto bene anche da fuori aria, con il mancino, volendo anche con il destro, un giocatore secondo me che può essere interessante, e però appunto da pagare poco, quindi lui potrebbe essere una mezza rivelazione, anche con l'avvertimento che è un giocatore molto discontinuo, e questa è più o meno l'analisi dell'Empoli, insomma questi sono i giocatori della squadra Toscana al momento, poi penso che faremo un altro video di aggiornamento, perché comunque l'Empoli ancora sta acquistando, giustamente anche perché in Coppa Italia hanno giocato, o comunque tra campo e panchina c'erano veramente 6-7 primavera, quindi non penso che giocheranno così, è una squadra comunque che deve ancora completarsi. Io vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi sia utile, che vi sia piaciuto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao a tutti.